Le imprese balneari della Calabria hanno bisogno di risposte tempestive per mettere in piedi in tempo utile le loro attività e avviare la prossima stagione turistica ormai alle porte. A dirlo il Presidente della Regione Nino Spirli al termine dell'incontro di ieri pomeriggio alla cittadella regionale Iole Santelli con i sindacati degli stabilimenti balneari. Presenti tra gli altri la consigliera regionale Tilde Minasi e l'assessore allo sviluppo economico e al turismo Fausto Orso Marso. Si dice fiducioso il governatore facente funzioni circa la risoluzione delle problematiche delle imprese balneari affinché possano vedersi riconosciute le concessioni ai fini delle aperture. Aspettative legittime quindi da soddisfare al più presso per far ripartire un indotto che vale milioni di euro.